I Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale dei Trapani, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati, ritenuti a vario titolo fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Fermato un esponente di spicco di Cosa Nostra a Mazzara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti, la sorveglianza speciale. L'attività, che ha visto l'impiego di circa 200 carabinieri, costituisce un'ulteriore fase delle indagini del Rosso per la cattura del superlatitante, attraverso il progressivo depotenziamento dei circuiti di riferimento e il depauperamento delle risorse economiche del gruppo criminale. I militari dell'arma hanno anche affermato, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, Matteo Tamburello, esponente di spicco della famiglia di Cosa Nostra di Mazzara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Al centro dell'intagine ci sono i mandamenti mafiosi di Mazzara del Vallo e Castelvetrano, nel cui alveo sono state documentate e qualificate interlocuzioni intrattenute da Tamburello, con soggetti riconducibili al reggente del mandamento di Castelvetrano, Gaspare Como, cognato dell'additante Matteo Messina Denaro, arrestato sempre dal Rosso lo scorso aprile nell'ambito dell'operazione Anno Zero. Le investigazioni sul clan mafioso mazzarese hanno permesso di individuare la fase organizzativa degli assetti di vertice, fornendo importanti elementi sulla sua collocazione baricentrica nelle relazioni criminali nella Sicilia occidentale.